Musica Presentiamoci dai allora, orchestra na orchestra giusto? Siamo proprio noi, siamo proprio noi, orchestra na orchestra Qui oggi al Cleto Festival, seconda giornata ottava edizione Per allietarci, ecco sì abbiamo visto il bigliettino vintage dicevamo prima Voi venite da San Pietro Maggisano, mi dicono dalla regia Sì perfettamente, un paesino ai piedi della sila piccola catanzarese Borgo collinare di circa 350 anime Paesino piccolissimo con una grossa influenza musicale Circa 70 persone tra anziani, bambini, professionisti e non professionisti Suona qualche strumento, quindi c'è una grossa influenza musicale Siamo felici di questo e noi siamo felici anche di portare il nome del nostro piccolo paesino In giro per gli eventi del sud Italia e anche oltre Voi siete itineranti, di conseguenza chi volesse insomma contattarvi Per portarvi nella propria diciamo località, festival, sagra Penso che voi comunque vi muoviate Siete pronti a girare il mondo, la Calabria, giusto? Certo, anche lo spazio interstellare, no non vorrei essere abbastanza come dire Mi butto un po' oltre, sì giriamo ovunque Facciamo naturalmente festival, matrimoni, notti bianche Per qualsiasi evento, occasione, tipo complanni, cresime Funerali abbiamo fatto anche un funerale Non sto scherzando abbiamo fatto anche un funerale Pace all'anima sua Adesso però dobbiamo fare, scusa, qualcosa che non sia un funerale Qualcosa di allegro ce la potete fare ora, diciamo in diretta da una parte Allora dai, ognuno prende il suo strumento e faccia E allora dacci quei due minuti di tempo per organizzarci Due minuti e mezzo, tre, quattro La diretta ci sta, dai ci sbrigiamo, dai giù Vediamo come fate, dai scusa Allora lui continua con la diretta, io invece continuo a fare le mie riprese Forse uno uno strumento, ah no, ma lui guarda come è organizzato Che riesce a fare la ripresa diretta e prendere comunque le bacchette Perché lui ovviamente, è l'altro invece Poi comunque ognuno dovrebbe capire, allora vediamo un po' Quella è una tromba, l'altro invece Un'altra tromba Questo invece cos'è? Questo è un susafono Susafono Basso americano Soprattutto per noi ignoranti, comuni mortali Perché susafono non l'avevo mai sentito Basso americano Basso americano O basso O basso Guarda là come invece il batterista si diletta a fare anche le dirette streaming Che ormai, guardi, YouTube, Facebook sono la stessa cosa Stanno accordando gli strumenti, ci siamo quasi E passiamo, ecco dai 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 Passiamo alla musica e all'azione Orchestra, una orchestra dal Cleto Festival Aspettiamo il Super 4 Super 4 Ragazzi orchestrano orchestra, chiamateli per tutte le cose Dal momento è che è il Cleto Festival Ci godiamo loro qui al Cleto Festival Libri TV Riccardo Cristiano Orchestrana Orchestra Ciao Grazie mille Ciao Clato Ciao 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 Grazie a tutti